E' ancora caccia due banditi armati che lo scorso sabato attorno alle 18.30 hanno rapinato due portavalori ora fino al piazzale dell'Arezzo Park Hotel a pochi passi dal casello A1 di Arezzo. Si è trattato di un vero e proprio agguato, i due rapinatori sono infatti sbucati improvvisamente dal buio con il volto travisato. Hanno minacciato i due rappresentanti con una pistola e si sono fatti consegnare un trolley contenente assegni per circa 50.000 euro ma non riscuotibili in quanto già intestati al destinatario e per il quale è stata asporta immediatamente la denuncia, insomma carta straccia. A chiamare il 113 è stato l'addetto alla reception che ha sentito le grida della donna rapinata. L'ha proprio assalita dal dietro, è buio quindi non è che si vede molto, abbiamo sentito solo delle urla, io ho sentito solo delle urla poi dei signori che erano in stato di shock, quindi urlava, lei urlava, lui era proprio stesso che diceva alcune frasi tipo ci hanno rubato, ci hanno rubato. Nel Merino è finita una Fiat Panda Rossa che sarebbe stata notata a compiere dei movimenti sospetti nel piazzale dell'hotel dell'auto al momento. Comunque non è stata trovata traccia, secondo gli inquirenti procede la squadra mobile della questura di Arezzo è possibile però che i banditi abbiano utilizzato una diversa vettura. La polizia al momento sta battendo ogni pista al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare così di ricostruire i movimenti dei banditi.